Ne parliamo oggi in giunta, in realtà ne parlerà la vice sindaca perché io sono all'inaugurazione dell'anno accademico della Bocconi. Faremo delle cose aggiuntive, certamente noi come comune, ragioneremo sull'illuminazione, sulle luminari natalizie, insomma tutta una serie di iniziative che singolarmente contano quel che contano, però messi insieme possono contare. E poi cercheremo di lavorare anche un po' insieme ad altri, al Politecnico che abbiamo già fatto anche per spiegare un po' ai cittadini come si fa in casa a risparmiare energia perché tutti noi ne sappiamo poco.